Lunedì Luciano Pilato, volontario del gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta, è venuto a mancare. 71 anni, entro 14 anni fa nel gruppo di volontari era il 2008 e da allora si è dedicato al volontariato. Tutti i componenti dell'associazione lo ricordano come una persona capace, sempre presente e pronta nelle attività. In questo momento di dolore sono propri volontari a stringersi attorno ai familiari. I funerali oggi alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Caltanissetta.